ma come fumano gli attori nei film ciao sono valerio novara non si fuma più come un tempo un po perché si vedono sempre meno film con attori che hanno una sigaretta in bocca pensate che in america il rating dei film ovvero l'età in cui gli spettatori possono vederli sale ogni volta che compare una sigaretta sullo schermo non si fuma più come un tempo anche perché dagli anni 90 ad oggi è cambiato il modo in cui si mostra l'azione del fumare sullo schermo in un film o in una serie tv oggi le sigarette sono considerate alla stregua degli effetti speciali se vogliamo ma come le fanno queste sigarette le sigarette nei film non sono finte piuttosto sono diverse sono delle prop degli oggetti di scena realizzati appositamente per il cinema fino a 30 anni fa però quando servivano le sigarette bastava chiamare le aziende produttrici e farsi mandare un pacchetto da far fumare veramente agli attori anche chi non l'aveva mai fatto o non aveva intenzione di iniziare non proprio il massimo se pensate che per fare una scena servivano molti ciacche quindi serviva fumare tantissime sigarette oggi si usano sigarette alle erbe senza nicotina né tabacco possono essere copie identiche delle originali ma ovviamente danneggiano molto meno la salute anche se non sono del tutto innocue pare che non siano nemmeno sgradevoli da fumare dato che si possono scegliere diversi gusti tra cui vaniglia menta fragola se qualche attore dovesse avere un particolare tipo di allergia il contenuto può essere variato ma anche in base alla preferenza ad esempio liam nison ama particolarmente la camomilla in altri casi quando sono i bambini a dover fumare al cinema si usano sigarette spente poi accorciate di inquadratura in inquadratura aggiungendo il fumo in post produzione pensate che natalie portman aveva solo 12 anni quando ha recitato nel film leon e per impedirle di sviluppare un'abitudine al fumo il suo personaggio è stato visto solo con in mano una sigaretta ma senza mai inalarla per assicurarsi di tutelare la salute dell'attrice i suoi genitori si assicurarono che le scene in cui compariva natalie portman con questa sigaretta in mano senza inalarla fossero al massimo cinque e che il personaggio che interpretava avrebbe smesso di fumare entro la fine del film e così è stato questo è stato fatto sia per proteggere la salute della portman che per dare comunque un segnale positivo a tutti gli altri minorenni che stavano guardando il film la sigaretta è stata tagliata quando natalie portman ce l'aveva in mano proprio per dare l'idea che stesse fumando veramente che quindi la sigaretta si accorciasse tra l'altro l'organizzazione mondiale della sanità ha lanciato un piccolo allarme che riguarda il fumo il tabacco all'interno dei film di hollywood le scene che rappresentano persone che fumano infatti sarebbero diventate un modo per aggirare i divieti sulla pubblicità del tabacco insomma è un mondo davvero particolare quello del cinema e anche le scene in cui degli attori fumano sono molto cambiate rispetto al passato fatemi sapere cosa ne pensate di questa curiosità se la conoscevate già e se ne avete altre che riguardano il fumo all'interno dei film e delle serie tv iscrivetevi al nostro canale youtube c'è a creazione seguiteci su facebook e instagram dove tutti i giorni vi raccontiamo storie aneddoti e curiosità che riguardano i film e le serie tv al prossimo video